Sommerso dalle critiche si è dovuto spostare a Vigasio il discusso evento Terra e Libertà dedicato alla memoria di Jan Palak. Il consigliere comunale Andrea Bacciga, organizzatore del concerto con l'associazione Nomos, ci ha spiegato com'è nata l'iniziativa. Io ebbi l'idea di fare un concerto per l'anniversario di Palak o comunque un evento per Palak già a giugno dello scorso anno. Nel frattempo, sempre in consiglio comunale, passò la mozione per donare un contributo economico agli alluvionati. Nel frattempo poi venne costituita l'associazione Nomos, per cui si unirono queste cose e si decise di fare un concerto in memoria di Jan Palak. Ovviamente non ci aspettavamo questo contrasto, ma più che contrasto, di repressione da parte della sinistra. Concerto Nazi Rock era stato definito da alcuni oppositori per la presenza di gruppi come Topi Neri, Hobbit e Compagnia dell'Anello. Come ci sono gruppi che sono di sinistra e che suonano liberamente, non vedo perché non ci possono essere gruppi di destra che suonano per di più, hanno suonato gratuitamente, hanno voluto semplicemente le spese vive ovviamente della benzina, del trasporto, ma non hanno chiesto nessun tipo di gettone. Per cui ci si doveva concentrare di più sull'aspetto benefico invece che sull'aspetto politico, ma quelle che potevano essere veramente migliaia di euro da dare agli alluvionati probabilmente sarà ridotto notevolmente. Ma perché questo? Beh è chiaro, abbiamo dovuto cambiare tre location e abbiamo dovuto aggiungere spese su spese e questo è andato solo a discapito degli alluvionati. Teatro Stimate e Movieland erano state le prime opzioni, poi saltate per l'associazione Nomos che ha dovuto quindi cercare una nuova location. Non gliene faccio una colpa a loro perché il modus operandi della sinistra era questo, era telefonare, riempirli di mail, dire che era un concetto nazista, come si permettevano a fare un concetto nazista e che avrebbero fatto in modo di fare cattive recensioni e di dare cattive pareri. Si è raggiunto veramente i livelli di repressione che è da fare invidia al regime comunista.